Cigep 2024 continua, ci troviamo allo stand di Orasi Barista, un brand di Martini Professional e siamo in compagnia di Claudio Chinnici, il responsabile marketing dell'azienda. Claudio, un gran piacere averti qui ai microfoni di OreccaTV.it. Grazie a voi, piacere mio. Io ti devo chiedere innanzitutto come mai questa scelta, come mai le bevande naturali nel gruppo Unigra? Sì, allora, Orasi è il marchio con cui l'azienda Unigra si presenta agli occhi dei consumatori, sugli scaffali della GDO e ai professionisti della caffetteria per un'offerta completa nel segmento delle bevande vegetali per la preparazione sia di cappuccini, appunto a base vegetale, sia di qualsiasi tipo di drink, soprattutto nei periodi estivi. Voi lo fate con cinque gusti che sono alle nostre spalle, che state guardando in questo momento, destinate da una parte al mercato consumer, dall'altra a quello professionale. Sì, esatto. La gamma destinata al canone retail è più ampia e copre tutti i principali segmenti di mercato e benefici funzionali che oggi i consumatori ricercano. Per il mondo barista invece abbiamo cinque ricette dedicate al mondo professionale, quindi per un utilizzo professionale, nelle quattro principali varianti di gusto del mercato, soglia, vena, mandorla e cocco. E qui a Sigeb presentiamo la nostra novità nocciola, che è un unicum nel portafoglio di prodotti professionali per il canale caffetteria. In Belgero che abbiate fatto una lunga ricerca di mercato per scoprire quelle che sono le tendenze, appunto, in merito alle bevande naturali. Sì, assolutamente. Oggi i consumi di bevande vegetali sono in netto aumento, sia sul canale domestico, dove le famiglie più affezionate consumano mediamente 44 litri annui, quindi quasi un litro a settimana, e dove nel canale bar in tre anni è praticamente raddoppiata l'incidenza dei cappuccini vegetali sul totale cappuccino, arrivando a un 15% che è il dato che abbiamo adesso all'estero, questo dato sfiera quasi il 50%. Questo ci ha obbligato in qualche modo a far leva su tutta la competenza tecnologica sulle materie prime che Unicra ha, per sviluppare una gamma di bevande vegetali che siano appunto dedicate al canale professionale, quindi con una ricetta specifica che permette ottime performance di montatura e un perfetto melting con il caffè. E questo lo fate anche con l'ausilio di una testimonial di eccezione? Assolutamente sì, Carmen Clemente rappresenta perfettamente tutto quello che noi vogliamo raccontare, perché rappresenta passione per questa categoria, competenza, quindi sa usare queste bevande e sa farle rendere al meglio, e formazione, quindi insegna ai baristi come utilizzare queste bevande vegetali e soprattutto, essendo responsabile del marketing, un grande attenzione all'estetica. Non a caso Carmen è campione del mondo in carica nel 2022 di Latte Art e lei ha scoperto come le nostre bevande siano assolutamente performanti anche per questa disciplina e infatti oggi alle 10 qui allo stand di Unigra ci farà vedere come questi prodotti sono perfetti anche per le lavorazioni di Latte Art. Claudio, per tutti coloro che sono dall'altra parte e desiderano maggiori informazioni rispetto al prodotto di cui stiamo parlando, io so bene che voi avete una rete commerciale estremamente capillare ed estesa, davvero dalla Sicilia alla Val d'Aossa, ma c'è sempre, io dico, la maglia che si smaglia, per cui qualche zona con qualche potenziale cliente che desidera informazioni ma non sa in che modo entrare in contatto con voi. Forniamo appunto un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere. Certo, allora noi siamo, come dicevi correttamente, distribuiti praticamente in tutta Italia, sia per il canale GDO sia per il canale ORECA, la mail a cui qualcuno volesse contattarci è info.sivegetale.it e come dicevo i nostri prodotti sono disponibili su tutti i principali canali dei supermercati ma soprattutto l'offerta professionale è invece veicolata nel canale ORECA attraverso degli distributori che coprono tutto il territorio. Ed è arrivato il momento dunque di fare un assaggio prima di andare a scoprire le performance di Carmen che sarà qui tra pochissimo. Sì esatto, alle 10 comincia una 2 ore di masterclass seguita poi dalle 12 e alle 14 da Andrea Villa che farà un po' di mixology, quindi ci farà vedere quanto sono versatili. Dopo aver visto come sono performanti vedremo quanto queste bevande sono versatili per la preparazione di qualsiasi tipo di drink e con qualsiasi tipo di preparazione di estrazione del caffè. Quindi per chi fosse qui in Giro a Sige permetterci a trovare che c'è da divertirci e da assaggiare cose buone. E allora è il momento della bevanda alla nocciola, è quella che presentate in questa occasione e ho davvero una grandissima curiosità per andare ad assaggiarla. Preparati a stupire il tuo palato perché è veramente qualcosa di straordinario quando si assaggia. Non lo diresti mai che una bevanda vegetale invece, bevande vegetali oltre ad essere salutari sono adesso veramente anche molto buone, soprattutto quelle di ora sì chiaramente.